Due Quando la contessa Matilde tornò, dopo due anni di lontananza, tra i parenti del marito, essi medesimi alla prima non la riconobbero. Se era stata sempre pallida e magra, adesso era scialba e scarnita. Il petto le si affondava come se qualche male lento e spietato la rodesse. Le spalle le si incurvavano come per il peso degli anni e gli occhi incavati, accerchiati di livido, lucenti di febbre, dicevano lo strazio di un pensiero cocente, di una cura affannosa, d'una paura mortale. «Povera Matilde, sei stata male?» le domandò la principessa a dispetto delle ingiunzioni del marito, il quale le proibiva di avere opinioni. «Un poco», rispose la cognata scrollando il capo con un sorriso dolce e triste. «Adesso è passato». Infatti ella si sentiva rinascere. Suo padre non aveva voluto né accompagnarle in quella casa né permetterle di condurvi le bambine. Eppure, dimenticando quanto vi aveva sofferto, ella vi entrava con un senso di sollievo e quasi di fiducia. La tempesta recente era stata così forte e dura che ella pensava anzi con un senso di rammarico al tempo degli antichi dolori. Li aveva giudicati intollerabili e non sapeva di quanto sarebbero cresciuti, a poco a poco ma costantemente, fino a contenderle la stessa speranza ad un qualunque ritorno alla pace. Come le si era chiuso il cuore ai primi disinganni, nel vedere che l'amor suo non bastava a Raimondo, che egli pensava diversamente da lei, che faceva consistere la felicità in cose senza valore per lei. Eppure egli non l'aveva tradita allora. Ma erano venuti i tradimenti, ed ella li aveva perdonati, poiché tutti gli uomini ne commettono, le dicevano. Poiché ella soltanto ne soffriva, silenziosamente, in fondo all'anima. Che cosa avrebbe potuto fare del resto? Che aveva potuto fare dinanzi al pericolo più grave, alla minaccia terribile? Lasciarlo? Egli stesso l'aveva abbandonata. Quando ella ripensava a quei due anni trascorsi in Toscana, a tutto ciò che aveva sofferto, vedendo prepararsi e non potendo impedire l'ultima rovina, ella provava veramente come un bisogno di inginocchiarsi e di ringraziare il Signore, tanto miracoloso le pareva il ravvedimento di Raimondo. Poteva adesso sperare che durasse? Quante volte egli non era parso rinsavito ed aveva poi fatto peggio? Due anni addietro, prima che scoppiasse lo scandalo in casa di Fersa, ella non aveva creduto che tutto fosse finito per lei? Alla notizia che quella donna era stata scacciata dalla suocera, ella aveva compreso la commedia della rottura rappresentata da lei e dal Raimondo, e preveduto con lucidità straordinaria quel che poi era accaduto. Non di meno la partenza per il continente l'aveva illusa ancora una volta. La lontananza, il tempo, gli svaghi mondani dei quali era sempre avido, non avrebbero distrutto nel cuore di Raimondo il ricordo di quell'altra? Ma colei doveva aver giurato di rubarglielo ad ogni costo, se lo aveva raggiunto a Firenze, se erasi mostrata a lui da lontano, da vicino, per le vie, in società, tentandolo ovunque, dinanzi a lei stessa. Ella non accusava più Raimondo, non sospettava che fosse d'intesa con quell'altra, che avesse finto di fuggirla per ritrovarla più sicuramente. I suoi sospetti, le sue accuse gelose, cadevano su quella donna soltanto. A Raimondo ella non rivolgeva se non preghiere indulgenti, l'umile scongiuro di evitarle nuovi dolori. Egli si infuriava, negava come altre volte, la incolpava di volergli creare imbarazzi e pericoli, la riduceva al silenzio con le tristi parole che ancora le risuonavano all'orecchio. Quella donna è l'ultimo dei miei pensieri, ma se non la finite di vessarmi farò qualche pazzia, vedrete. Ella non sapeva ancora fino a qual punto fosse sincero. Il capriccio di Raimondo per donna Isabella, in verità, si era sedato appena soddisfatto. Il chiasso della separazione, la paura di trovarsi qualche grossa responsabilità materiale sulle spalle, avevano gettato molta acqua sul fuoco dei suoi desideri. A Firenze, dove s'era andato convegno, aveva deliberato di spezzare in un modo qualunque la catena da cui si sentiva a vincere, poiché egli aspirava alla vita allegra e varia, libera principalmente. Ma per la notizia del dramma domestico di cui era stato l'eroe, egli si vide posto più in alto nella stima degli scappati amici di Toscana, del cui giudizio faceva più conto che d'ogni altra cosa. La conquista ad una signora autentica come la Fersa gli procurava i sorrisi di compiacimento un po' invidiosi dei rompicolli che prendeva a modello. E donna Isabella gli divenne pertanto meno indifferente. Ma la gelosia della moglie finì di stringere quel vincolo nel punto che egli stava per giudicarlo increscioso. Tutte le volte che Matilde gli rivolgeva una supplichevole rimostranza, egli credeva suo dovere, come per una specie di compenso, di fare maggiori dimostrazioni di affetto all'amica. Più sommessamente sua moglie lo pregava di non trascurarla, più smaniosamente egli andava via di casa. Ella sapeva com'era fatto, com'era intollerante di ogni ostacolo, d'ogni contrasto, delle stesse osservazioni. Ma poteva forse tacere, fingere di ignorare quel che avveniva? Poteva soffrire senza neanche piangere, che egli la lasciasse sola, lunghi giorni, lunghissime notti, che trascurasse le sue figlie per andarsene con quell'altra, per mostrarsi pubblicamente in compagnia di lei, per condurre i propri amici nella casa di lei come in un'altra casa sua propria. E il giorno che si era sfogata, non contro di lui, ma contro quell'altra, Raimondo le aveva ingiunto di tacere, con la voce grossa, con gli sguardi cattivi, alzando la mano. Quella triste scena era avvenuta alla vigilia del giorno che suo padre, diretto a Torino, doveva passare da Firenze. Il terrore di spingere l'uno contro l'altro quei due uomini, l'aveva costretta a tacere. E poiché suo padre, ricominciando a sospettare di Raimondo, aveva mutato a un tratto, con la violenza abituale, l'antica affezione verso il genero, in freddezza diffidente e vigile, ella aveva dovuto bere le proprie lacrime, cancellarne le tracce, mostrarsi allegra per impedire che quei due si scagliassero l'uno contro l'altro. Così ella si era consunta, soffrendo in silenzio, inghiottendo amaro sopra amaro, invocando dal Signore tanta forza da poter continuare a fingere, a illudersi, a credere che nessun serio pericolo la minacciasse. Ma era già troppo tardi. Tutto ciò che nella sua gelosia la moglie gli veniva dicendo contro l'amante, spingeva Raimondo sempre più nelle braccia di quest'ultima. Poiché Matilde gliene parlava male, voleva dire che era invece la prima delle donne. Quest'idea si conficcava tanto più saldamente nella sua testa quanto che donna Isabella, da suo canto, non gli diceva mezza parola contro la contessa e si lagnava appena, discretamente, dell'odio che si vedeva portato. Quando mi incontra mi volta le spalle. Sparla di me. Che cosa le ho fatto? Oppure gli proponeva di rompere e di lasciarsi. Si offeriva in sacrifici per assicurargli la pace della famiglia. Non ti inquietare di me. Me ne andrò, vivrò sola, come vorrà Dio. Andrò a buttarmi ai piedi di mio marito. Forse mi perdonerà. Allora di rimando egli sostinava a far cose che ella stessa non avrebbe volute. Se prima non aveva nascosto quell'amicizia, ora lo stentava. Se prima stava poco in casa, adesso restava settimane intere senza metterci piede, senza vederle sue figlie. E dal teatro prendeva posto nel palco dell'amica, dal principio alla fine dello spettacolo, e dal passeggio, se era con amici, non rispondeva al saluto di sua moglie quando si incontravano. Mentre la contessa lacrimava in fondo alla sua carrozza, egli andava a piantarsi allo sportello di quella di Isabella. A Livorno, in principio dell'estate, lo scandalo era cresciuto talmente che alcuni buoni amici di Raimondo, il conte Rossi fra gli altri, suo padrone di casa, l'avevano consigliato ad essere meno imprudente. Matilde, il cui cuore sanguinava da tanto tempo, fu in quei giorni straziata da un altro dolore. Lauretta, che era sempre cagionevole, appena lasciato Firenze, cadde in ferma. Una notte che la sua bambina vaneggiava, in preda alla febbre, ella restò in piedi fino all'alba, vegliandola, impaurita dal rapido aggravarsi del male, aspettando ansiosamente il ritorno di Raimondo. A giorno egli rincasò. Doveva essere ebro. Solo perché, rotta dal dolore e dalla fatica, turbata fieramente dalla malattia della bambina, atterrita dal pericolo che la povera creatura correva, ella osò dirgli, ma che vita è la tua? Egli le piantò in viso gli occhi foschi, strinse il pugno ed uscì in una sconcia bestemmia. Che disse poi? Che fece? Ella non sapeva. Rammentava soltanto che, riavutasi dallo stordimento, Stefana, la sua cameriera, le aveva detto che il padrone era andato via, con lo stesso abito di società col quale era rientrato, portandosi soltanto a una sacca dove aveva buttato pochi effetti alla lesta. Rammentava ad essersi sentita struggere, non potendo corrergli dietro, non potendo lasciare la sua poveretta agonizzante, d'aver mandato Stefana a Firenze, credendo che egli se ne fosse tornato lì, d'aver saputo il giorno seguente che, cercato rifugio in un albergo della stessa Livorno, egli si era imbarcato per la Sicilia. Il barone arrivò da Torino come un fulmine, prima che ella gli avesse dato notizia dell'accaduto. Allora un altro tormento si aggiunse ai tanti che la straziavano. Il rancore di suo padre contro il genero scoppiò a un tratto, terribile. È andato via? Meglio così, aveva detto nel primo momento. Ma poiché ella si scioglieva in lacrime, non sapendo come fare, vedendo distrutta la propria esistenza, un violento moto di collera gli cacciò tutto il sangue alla testa. E lo piangi anche? Lo vorresti difendere? Saresti capace di corrergli dietro? Impaurita giungendo le mani per disarmarlo, ella addusse tra i singhiozzi. E le mie figlie? Le mie orfanelle? Ma con impeto più selvaggio, egli proruppe. Ah, il suo amor paterno? Il bene che ha voluto alle sue creature? Il sangue avvelenato a quella innocente? E con un fiotto di parole crude, minacciose, frementi, le disse la vita indegna di lui, ciò che ella non sapeva ancora, ciò che egli stesso non aveva saputo per tanto tempo, addormentato dalla vanità, dal folle orgoglio d'essersi imparentato con uno dei vicere. Vuoi che io vada a chiedergli scusa per te, per me, per quelle innocenti? Non ti basta sciocca che sei l'esperienza di dieci anni? Vuoi ricominciare a tremargli dinanzi? Credi che io non sappia quel che hai sofferto? E come ella scrollava le spalle, rabbrevidendo, egli gridò. Non te ne importa? Saresti capace di volergli bene ancora? Sì, era vero. Ella non piangeva per l'avvenire delle sue bambine. Non si sdegnava al ricordo delle proprie torture. Se le aveva patite in silenzio, se aveva accusato soltanto la rivale, se non aveva mai trovato una parola di rimprovero per Raimondo, l'unica ragione consisteva nel bene che gli portava. Dopo quel che t'ha fatto, non hai dunque capito che non l'ha mai ricambiato il tuo bene? Che non chiede di meglio se non sbarazzarsi di te? Sciocca che sei! Gli vuoi dunque il bene del cane che lecca la mano che lo ha battuto? Sì, sì, così. Il bene del cane per il padrone, la devozione di uno schiavo per l'essere di un'altra razza, più forte, più alta, più rara. Sì, la sommissione del cane per il padrone, poiché, anche dopo l'onta estrema che li aveva inflitto, nonostante la rivelazione brutale, nonostante il legittimo sdegno del padre, ella pensava di non poter vivere lontana dal Raimondo, di non poterlo lasciare a quell'altra. Passarono così per lei lunghi, eterni giorni di intima ambascia. Il barone la trattava con ostentata freddezza, pareva non accorgersi delle sue lacrime. Ella non di meno aspettava, affrettava coi voti più ardenti qualcosa. Non il ritorno di Raimondo, che sarebbe stato una gioia troppo grande, ma una sua lettera, almeno, di pentimento o l'intromissione di qualcuno dei suoi. La bambina si era rimessa. Ai piedi della Madonna, ella implorava il perdono ad un pensiero abominevole. Se Lauretta fosse ricaduta, avrebbero potuto chiamarlo. Sammalò, invece, ella stessa. Vedendola piangere anche nella febbre, il barone proruppe col tono acre che prendeva, cedendo. Non vuoi dunque finirla? Bisogna anche dargli questa soddisfazione di pregarlo per giunta? Bada però, soggiunse con voce minacciosa. Dal giorno che tornerete insieme, fa conto che io non ci sia più. Scegli tra noi due. Non ti immaginare che io possa aver più nulla di comune con lui. Povero babbo, burbero, rigido, violento con tutti, egli aveva sempre ceduto dinanzi alle sue figlie, studiandosi di fare la voce grossa, mettendo patti che la violenza del carattere gli dettava, ma che l'inesauribile bontà del cuore non gli permetteva alla lunga di mantenere. Scrisse così al duca. Andò insieme con lui a raggiungere Raimondo dopo averla accompagnata a Milazzo e glielo ricondusse. Non vera stata tra lei e suo marito neppure una parola relativa al passato. Nell'atto che egli le tornava vicino, avrebbe ella potuto rammentargli i suoi torti. Da parte sua egli non le chiese perdono, non le disse una buona parola. Le venne incontro indifferente come se l'avesse lasciata il giorno innanzi. Né ella sperava più di questo. Il suo bel sogno d'amore e di felicità s'era a poco a poco, di giorno in giorno, dileguato. Adesso, rassegnata alle tristezze della realtà, ella non chiedeva altro che quiete. Purché Raimondo volesse bene alle sue creature, purché non le abbandonasse un'altra volta, ella era disposta a sopportare ogni cosa. In casa del principe adesso, dove erano venuti per il matrimonio di Lucrezia, lasciando a Milazzo le bambine, i parenti di lui la trattavano meglio. La sposa, che pareva non capire nei panni, per l'imminenza del matrimonio, le prodigava dimostrazioni d'affetto, non si lasciava giudicare da nessuno forché da lei nella scelta degli abiti e degli ultimi oggetti del corredo. La principessa, sempre timida e mite, le dimostrava più di prima la propria simpatia. Quanto a Don Blasco e a donna Ferdinanda, che avevano ripreso a venire tutti i giorni al palazzo, parevano anch'essi un poco placati, perché invece di punzecchiarla non le badavano affatto. Che le importava? Erano così, bisognava prenderli come erano. Purché Raimondo non la lasciasse un'altra volta, purché quei giorni tremendi dell'abbandono non ritornassero. Quasi quasi ella rassegnavasi alla lontananza delle sue bambine. La compagnia della nipotina Teresa gliela rendeva più tollerabile. Come somigliava Teresa sua, la figlia del principe? La stessa bellezza fine e bionda, la stessa grazia, la stessa dolcezza della voce e dello sguardo. Anche i caratteri in fondo si rassomigliavano, quantunque la sua bambina dimostrasse una vivacità quasi irrequieta, mentre la cuginetta era più tranquilla ed obbediente. Ma quanta parte non aveva in questo risultato l'autorità del padre? Mentre Raimondo non si curava di sua figlia, la vigilanza di Giacomo pesava fin troppo sulla principessina. Egli l'educava a mortificare i suoi desideri, a reprimere le sue volontà. La faceva restare intere giornate tra le monache di San Placido, perché s'avvezzasse all'obbedienza e alla disciplina monastica. Povera piccina, tutte le volte che la mettevano nella ruota per farla passare dentro all'abadia, oltre il muro impenetrabile che segregava le suore dal mondo, tendeva le braccia alla sua mamma e dalle zie con un senso di paura negli occhi spalancati. Ma la principessa, che aveva gli ordini del marito, per il quale la bambina era una specie di muta ambasciatrice, incaricata di sedare il malcontento della badessa e della sorella crocifissa, persuadeva la figlia a star buona, a non temere. E la piccina diceva di sì, di sì, mandando baci alla sua mamma mentre la ruota girava. La chiudeva nello spessore del muro, la passava dall'altra parte, nello stanzone freddo e grigio con un grande Cristo nero e sanguinante che prendeva un'intera parete. La mamma, le monache, tutte e tutti lodavano la saggezza di cui dava prova. Per meritare quelle lodi, per non dispiacere al suo babbo, ella faceva quel che volevano. La contessa giudicava che, in fondo, nonostante l'apparente vivacità, anche Teresa sua era buona e dolce. Lauretta non era più tranquilla e ubbidiente della stessa cugina? E pensando ai suoi cari angioletti, ella affrettava col desiderio il matrimonio di Lucrezia, poiché dopo li avrebbe raggiunti. Segue.